La mia ragazza Giada mi ha chiesto di fare il provino per il team head Credevo fosse scarsa ma quando l'ho vista giocare ho scoperto un suo talento naturale Ragazzi tenetevi forte perchè quello che succederà in questo video sarà incredibile Oddio! No raga sta cliccando! Oddio! Oddio! Ok volete sapere tutti il segreto per diventare così forte? Di nuovo tra i primi Giada! Io sono scioccato, me lo giuro raga Fino ad una settimana fa sembrava una cretina con coemato Ragazza anche per Karen! Oddio! Oddio! Eccomi qua Giada ma si può sapere che voi mi hai chiamato, mi hai iscritto? Cosa vuoi? Finalmente sei arrivato dopo tanto tempo, cioè ti chiamavo da un sacco di tempo, finalmente sei arrivato Ok e quindi dimmi che devi dirmi? Tu sai in pratica che io ho scaricato Stumbleguide E ci stiamo giocando, tra l'altro vorrei capire, cioè tu vuoi parlarmi su Stumbleguide? Ti ricordo anche che siamo fidanzati, eh? Ho capito, stai un secondo zitto, fammi spiegare il tutto e poi capirai Allora, io ho scaricato Stumbleguide, sto giocando da tantissimo tempo perchè voglio diventare fortissimo Ok e quindi cosa vuoi da me? Beh vorrei da te che voglio entrare nel team mad Ok, 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 e beh ti informo benissimo che hai tutte le capacità per poterci entrare, nel senso che se ti alleni e robe puoi entrare nel team mad senza alcun problema, va bene? Perfetto crazy, quindi sono già entrata, lo immaginavo tu sei il mio fidanzato ovviamente No, 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 aspetta, 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 aspetta Oh, ferma un attimo, ma che, che sei entrata? Adesso si è fatto i film mentali, ovviamente devi superare il provino come tutti gli altri No, dai, no, no, dai, io sono la tua fidanzata Ma che sì, ma non ci... Ma senti, senti, ascolta, entrare nel team mad è la cosa più impossibile di Stumbleguide, ok? E te perché sei la mia fidanzata, ci entri, non esiste proprio Se vuoi ti posso fare il provino, ma farti entrare senza un provino non esiste, Giada Dai, 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 ma non c'è nessuno No, ma no, ma che... No, assolutamente no Ma sei scherzando Ma poi hai iniziato manco sette giorni fa a giocare, sei scarsissima Ma che cosa dici, no? Non è vero, tu mi hai visto e l'altro ieri mi hai detto addirittura che sono molto brava Quindi posso entrare tranquillamente e tu mi conosci benissimo Ma quando mai? Quando mai? Che sei scherzando Ok, dato che non ti fidi di me, facciamo questo provino e ce ne liberiamo Ma perché voglio entrare, assolutamente Ok, allora, innanzitutto devi star ferma a dieci secondi, quindi da ora dieci secondi ferma Uno, due, eh sì, eh sì, eh sì Perché devo complicarti la vita, ovviamente, dato che sei la mia fidanzata, ti devo complicare ancora di più la vita Certo, perché già tu non me la complichi nella vita reale la vita Vai, 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 ora puoi muoverti Ok, vado, 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 vado Senti, devi capire che... Ce la sto facendo, ce la sto facendo, ce la sto facendo Oddio, ma se... oh, ma si fuori Oh, ce la sto facendo, oh mio Dio Aspetta, ferma, ferma, ferma Sto arrivando, sto arrivando Ferma, ferma, ferma Come fai a essere così forte, cioè nel senso... Ma allora sei scemo, se ti dico che mi sono allenato da tanto tempo per arrivare... Ma quando mai? A te Ma la scorsa settimana non sapevi manco saltare E poi te non giocavi da telefono, scusa, che ora giochi da computer Eh, sì, vabbè, ho preso il tuo computer e mi sto allenando anche con il computer, come vedi Ma, vabbè, ok Ehi, fermi un attimo, non sei ancora iscritto al canale? Ti ricordo che per fare il provino per il Team Mad devi essere iscritto Dopodiché commenta qua sotto con il tuo nome e ti farò il provino Mi raccomando, arriviamo a un milione di iscritti e mi lancio da un aereo Sì, ce l'ho fatta! Oh, ma sono troppo forte, crazy Io ti supero, io ti supero Giada, Giada Ti sei semplicemente qualificata Gara Giada, ti ricordo che però per superare il provino dovrai vincere tre partite di fila E non sarà affatto semplice, sai com'è, no? Eh, stai tranquillo che già li ho superate l'altro ieri, come ti ripeto le altre Oh, oh, sei zitto adesso che mi devo concentrare Oh, raga, ma... ma è prima Oh, ma raga, ma è prima Oh, ma è prima Ma, ma come cazzo? Ma, oh, raga, oh, sì! Ed è la seconda, è la seconda, crazy Alla testa mi qualifico Eh, ma, eh, veramente hai vinto la partita Ma che stai dicendo? Ma, 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 conosci, ma conosci, ma con stammo il guy Come ho fatto a vincere, raga? Ma tu perché mi sottovaluti così tanto? Ma stai zitto e fammi giocare Io sono scioccato, vi, 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 ve lo giuro, raga Fino a una settimana fa sembrava, sembrava una cretina con cui, ma con cui Non è vero, mi avevi detto che ero diventata bravo Ma quando mai? Io sono veramente tantissimo contento Anche se qualcosa mi puzza Ma vabbè, ma vabbè, ma vabbè Oh, di nuovo, di nuovo tra i primi, Giada Giada, ma come... Oh, stai un secondo zitto Non devi parlare, mi sconcentri Ok, 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 stai calma Ti ricordo che ne devi vincere altre due Sei ufficialmente entrata nel team head Ok, questa cosa non pensavo mai di dirla Sarà semplicissimo Regà, Giada era veramente scarsa qualche tempo fa E adesso, eh, 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 eh Oh, 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 no, no Ma cosa no, ma cosa no? Aspetta che stavo perdendo Stai zitto Ma che stai perdendo mai prima, raga Ma è prima Oh, oh, ce l'ho fatto solo la prima No, vabbè Ragazzi, c'è qualcosa di veramente strano Giada prima non ha mai... Giada, Giada, te non ti qualificavi mai, mai Ma vabbè, sono contento Boh, eh, chissà cosa gli hai preso Ok, volete sapere tutti il segreto per diventare così forte? Sì, Giada, sì, assolutamente sì Perché ne abbiamo bisogno, vai Ve lo rivelo io Costanza, lavorare solo e non arrendersi mai Questa è proprio bella questa, sì Costanza, dai, ma stai zitta, Giada Ma dai, dillo, stai usando le hack sincera, Giada Io, io le hack Ma neanche so che cosa sono le hack Stai usando le hack, ragazzi Ma raga, ma come fa? Ma si qualifica sempre prima Cioè, non lo so Ma perché mi sottovaluti così tanto? Non mi conosci? Tra l'altro, raga Io la sto vedendo in questo momento Non c'è nessuno con lei Giada? No, 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 no Ma che è successo? Come che è successo? Non ti sei qualificato, Giada? No, 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 no No, 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 ma... Ma ero concentrata dalle tue parole che stavo parlando Lo so, lo so Vabbè, raga Stavamo parlando Facciamo una cosa Diamogli l'ultimissima possibilità Giada, di la verità Sei veramente te che stai giocando? Secondo me sei stupito Ripeti le cose continuamente Ti ho detto di sì Ok, allora, raga Complimenti Cioè, fatemi sapere nei commenti Se secondo voi Giada è forte È migliorata tantissimo Ti devo fare i complimenti Cioè, veramente Grazie Complimentoni, Giada Oh, Giada Stai fermo Ma com'è che è diventata così forte? Stai zitto, stai zitto Stai zitto Ma che dici? Ma no, raga Raga, oh, è veramente diventata fortissima Cioè, io ci ho giocato insieme Non si qualificava mezza volta Oh, ma che è, Giada? Raga, ma non vorrei sinceramente perdere Oh, oh Vai, 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 vai Ce la sto facendo Silenzio, silenzio assoluto Perché questa deve essere la mia vittoria Sei a due Ma quanti gol hai fatto, Giada? Quanti gol Oh, stai zitto, stai zitto Ok, questa è veramente importante Stai zitto No, raga Ha vinto anche questa Assurdo Cioè, raga Ha fatto almeno quattro gol Quattro gol Cioè, boh Ok, raga In questo momento mi sono mutato Voglio proprio aspettare Giada E capire bene Si sta concentrando Guardate Dalla sua webcam Cioè, raga È già prima È già È diventata fortissima, raga Oddio No, raga Sta triccando Oddio Oddio Ma, ma Ragazza Anche triccare No, vabbè No, vabbè No, vabbè Non è la mia ragazza Non è la mia fidanzata Oddio Oddio Guardate che si concentra Guardate che si concentra Oddio, ragazzi Oddio No, raga Ha vinto anche questa Cioè, è incredibile Cosa fa? Ma cosa fa? Ah, voleva andare a sinistra Ma poi non ce l'ha No, c'è data No, ok È fuori di testa È diventata più brava di me Ma com'è possibile? Ma quando mai? Com'è possibile? No, ok Adesso gli faccio una domanda E la faccio cadere a trabocchettose Perché secondo me Non sta giocando Non lo so Ha qualche hack Qualcosa Giada Complimenti Sì Anche questa l'ho superata Ma Giada Ascolta Quando hai imparato Sti trick? Eh, beh Lo vuoi sapere? Eh Lo vuoi sapere? Eh, lo voglio sapere Sì Lo vuoi sapere? Beh, mi devi pagare Se lo vuoi sapere Vabbè Io sono, raga Scioccato Ragazzi La scelta finale Tocca a voi Giada merita o non merita Il team head Secondo te Giada? Ma che domande sono? Io lo merito Sono la prima a meritarlo Ok Fatemi sapere se secondo voi Giada è talmente brava Da farla entrare nel team head Secondo me Sì ragazzi Ma prima Aspetterò il giudizio Di tutti voi Che scriverete qua sotto Nei commenti Ovviamente il giudizio Lo potrà dare solo Chi è iscritto al canale Quindi Iscrivetevi